Distruggete questo Tempio e io in tre giorni lo farò risorgere. Questa frase di Gesù che troviamo nel Vangelo di questa terza domenica di Quaresima è un po' la chiusura di questo brano ed evidentemente ci accompagna già all'esperienza della morte e risurrezione di Gesù, ci racconta già quello che avverrà nella sua Pasqua a Gerusalemme. Ma questo cammino di Quaresima ci sta prendendo per mano e ci sta facendo fare un'esperienza anche di verifica sulla nostra autenticità come persone ma anche come comunità e quindi vorrei soffermarmi di più sulla prima parte di questo Vangelo in cui troviamo un Gesù molto arrabbiato che con maniere decise scaccia i mercanti del Tempio. Ecco è molto singolare questo atteggiamento di Gesù perché noi sappiamo bene che i venditori e i cambiavalute erano funzionali alla vita quotidiana del Tempio di Gerusalemme perché chi arrivava da lontano oppure anche da paesi stranieri per poter elevare la propria preghiera, per poter compiere la propria offerta, per poter fare il proprio sacrificio, aveva bisogno di cambiare i soldi che si era portato da casa perché i soldi diciamo stranieri non potevano entrare nel Tempio o certamente non poteva portarsi appresso per lunghi giorni l'animale che sarebbe stato sacrificato e quindi era decisamente più pratico poter sbrigare queste operazioni nella prossimità del Tempio. Quindi queste bancarelle, questi luoghi dei cambiamonete esercitavano quindi un servizio molto utile che a suo modo anche aveva la funzione di regolare il flusso nel luogo del culto, nel luogo più interno del Tempio di Gerusalemme. Allora la domanda è perché Gesù se la prende così tanto verso questi cambiamonete, verso questi mercanti e io provo a azzardare un'ipotesi, forse perché Gesù non sopporta quella confusione che non ci fa più cogliere l'essenziale di quell'esperienza che è un'esperienza di preghiera e di quel luogo che è deputato esattamente a questo incontro profondo col Signore. Forse è questa confusione che circonda questo luogo a disturbare il Signore Gesù e in generale noi sappiamo che quando non si vuole far vedere una cosa il sistema più semplice è quello di nasconderla in mezzo a mille altre cose e questa è un'azione che il potere, il potere politico, il potere anche religioso, il potere economico, fanno molto spesso, noi potremmo dire così, creano fumo intorno a determinati luoghi, a determinate esperienze e allora probabilmente in quella esperienza che Gesù vive ritrova che nel Tempio non c'è solamente diciamo il fumo dell'incenso ma anche quella di tanta troppa agitazione tanta confusione che caratterizza l'agire di tante persone che si recano nel Tempio forse ci sono tante parole magari anche altisonanti magari parole anche ricercate ma che offuscono la purezza e la luminosità dell'incontro con il Signore nel Tempio e quindi questa cortina diciamo fumogena di monete di sacrifici di offerte di rituali sembra avere un solo scopo quello di nascondere la pochezza di chi pratica questi riti di chi pratica queste preghiere o magari di chi impone questi riti e queste preghiere la domanda è ma dietro a tutta questa confusione dietro tutto questo mercato dietro tutti questi cambi di monete e acquisti di animali per il sacrificio che cosa rimane che cosa c'è alla radice ecco Gesù anche in questo caso come sempre è alla ricerca dell'autenticità ecco quindi io posso tentare di immaginare che questa reazione che a tratti anche violenta perché Giovanni ci racconta che addirittura Gesù si è costruito un asticello una frusta per poter scacciare i mercanti del Tempio quindi è un'azione molto decisa e è sempre Gesù ci accompagna sempre alla scoperta di questa autenticità che a volte noi offuschiamo con delle cortine fumogene tant'è che non a caso Gesù spesse volte viene poi additato dalla gente e dalla gente più comune dicendo ecco qui veramente uno che parla in modo chiaro ecco qui veramente uno che è autentico no che nel suo cuore nelle sue labbra c'è coerenza e anche nel suo agire quindi probabilmente questa azione molto particolare forse è l'azione più più forte anche dal punto di vista fisico che Gesù compie nel Vangelo può essere ricondotta questo suo desiderio di autenticità possiamo aggiungere anche un'altra cosa che i mercanti del Tempio ma più di loro quelli che noi ci vengono detti nel Vangelo no spesso ci vengono indicati come gli scribi i farisei i sacerdoti noi potremmo dire i professionisti del culto non si possono permettere il lusso che venga abbattuto il loro castello di opere e parole dietro alle quali non c'è più il vero culto spirituale dietro le quali non vibra più la vera fede e quindi hanno paura di far crollare questo questo castello che si sono costruiti perché dietro non sembra esserci più niente è come se se la prendono moltissimo è con Gesù che fa questa azione come se avessero paura di affrontare la verità della situazione perché la verità di questa situazione fa paura allora se per usare un linguaggio più moderno è come dire è molto meglio nascondersi dietro a delle dichiarazioni altisonanti a dei sondaggi pilotati a delle grandi convention a delle interviste già preparate e create ad arte per confermare quello che si vuole far credere questo credo che sia la tentazione di tutti i poteri dicevo politico certamente lo sappiamo economico ma a volte anche lo stesso potere religioso di sempre il creare una cortina di cose superficiali di cose che nascondono a volte il vuoto del centro e e questo centro Gesù invece ce lo fa riscoprire perché il centro è questo culto in spirito e verità che in quel luogo così importante per gli ebrei era il tempio di gerusalemme grazie a tutti grazie a tutti